Il Cerbero Podcast contro Twinner, oh mio Dio! Ok, penso che sia arrivato il momento di parlarne un po'. In più, perché io, a differenza di Twinner, potrei un pochettino scaldarmi. Con la voce! Con la voce! Non mi arrabbio, attenzione. Allora, per chi non conoscesse Twinner, è un ragazzo che parla di cose e si informa. Per chi non conoscesse il Cerbero Podcast, sono ragazzi che parlano di cose e non si informano. Allora, allora... Io sono stato un grande fan di Twinner da tanto tempo, lo seguo ormai da un paio di anni. E so, però, che il Cerbero Podcast ultimamente ha avuto dei problemi con lui. Non dico che il Cerbero Podcast fa schifo, in più perché a me non mi interessano molto dei contenuti che portano. E visto che non li seguo, non voglio andare subito a giudicarli, a differenza loro con Twinner. Però, posso dire che effettivamente delle cose sono successe fra questi due canali, diciamo. Persone! Possiamo anche dire persone, perché sono delle persone, ragazzi. Come me, come voi, che stai guardando questo video. Come te! Però, il fatto è questo. A me piacerebbe che Twinner facesse delle collaborazioni ogni tanto. Perché mi piacerebbe vedere quel gentilissimo ragazzo che parla con una voce. Ragazzi, ma ha miele al posto della voce. Ha il latte al posto della voce. E, se posso dire qualcosa, mentre Twinner comunque, sebbene non è ferrato sull'argomento, o almeno credo che non sia ferrato, poi può essere che magari sia anche un qualcosa. Cioè, lui, come me, non dà molte informazioni sulla sua vita privata, e fa bene. Posso dire che, però comunque, porta delle tesi, dimostra delle cose. Il Cerbero Podcast, invece, butta a volte in cacciara, come ha detto anche Twinner. Io mi fido abbastanza di Twinner e di quello che dice. Perché, posso ammetterlo, che comunque lo seguo da un po'. E, sì, ha avuto i suoi sbagli ogni tanto, e non starò qui ad elencarli. Come tutti quanti ce le hanno, no? Tutti quanti siamo esseri umani, tutti quanti sono delle persone, e tutti quanti possono sbagliare. Però un conto è sbagliare, ops, ho sbagliato, e un conto è sbagliare. Sì, allora, hai problemi? Come a volte può fare il Cerbero Podcast. Sinceramente, una volta ho visto uno youtuber che parlava, fra virgolette, di Twinner. Ovvero 151G, sapete, no? Quello lì che ha portato alla storia della Disney, tutti quei bellissimi video, anche sui Lampaclima, bellissimo. E, effettivamente, ha parlato in live di quello che diceva Twinner, ma sempre con un tono calmo, parlando. Ora, io sono soltanto una macchietta comica, non voglio entrare in questioni complicate. Voglio soltanto mettere la pulce all'orecchio agli youtuber, di dire, ragazzi, un conto è un dibattito. Un conto può anche essere, che ne so, un video stupido su YouTube, come questo. Però quello che voglio trasmettere è serio. Un dibattito è qualcosa di molto calmo, molto rilassato, e che alla fine porta a qualcosa. Non semplicemente la rabbia in corpo che viene sprigionata. Io spero che questi youtuber facciano pace un giorno, come spero, d'altronde, che Twinner faccia una collaborazione con qualcuno. Certo, magari non col Cervo Podcast, ma magari, forse, quello che io sogno come una fangirl con 151G. Perché io me le immagino tipo, mmm, vuole del Tessor? Oh sì, la ringrazio, queste cose qui. Comunque, io sono Gigi iGrim e ci vediamo al prossimo video, ragazzi.